Smart working, ovvero lavorare in un luogo diverso dall'ufficio purché risulti efficiente, confortevole e poco oneroso. È questa la nuova frontiera per manager, professionisti, consulenti e start-upper di tutto il mondo che in un'epoca di strumenti digitali e di lavoro estremamente flessibile sostituiscono la tradizionale scrivania piena di foto di famiglia e oggetti cari con soluzioni più convenienti e di certo meno vincolanti. È stato inaugurato oggi in via Francia a Verona, seconda città del Veneto dopo Padova, lo smart working della multinazionale Regus che mette a disposizione nella città scaligera ben 44 uffici completamente arredati, 136 postazioni lavoro, due meeting room, uffici virtuali con servizio di segretariato, domiciliazione postale e parcheggi dedicati. È un modo diverso di lavorare, chiamato smart perché chiaramente è più agile, più veloce, più flessibile. Un'apertura a quella di Verona che si aggiunge alle 35 già presenti sul territorio nazionale e alle 3000 in ambito globale. Creiamo questo network, questa piattaforma che è utilizzabile dai nostri clienti su base giornaliera con una sala riunione, con un'area co-working, con degli uffici privati dove il cliente può utilizzare la struttura nel miglior modo possibile secondo le proprie esigenze, secondo il proprio budget e l'importante in maniera veloce perché è pronto subito e soprattutto senza avere degli investimenti. La tecnologia ci ha dato oggi la possibilità di lavorare ovunque, quindi non abbiamo più necessità di andare sul posto di lavoro come facevamo anni fa.